Parliamo invece della misteriosa scomparsa della conduttrice Diletta Leota. Vediamo il servizio di Carlo San Gio, San Bo. Un profilo Instagram non aggiornato da tre ore, un bordocampo deserto e un microfono abbandonato. Questi i primi indizi che hanno fatto scattare l'allarme sulla sparizione della nostra dilettona nazionale. L'ultima volta era stata vista dai suoi parenti stretti. Avevamo appena mangiato poche ore fa e lei era uscita a comprare... Una delle piste più accreditate è che la donna sia caduta in un tombino. Professore, che cos'è un tombino? Il tombino è l'apparato idraulico che consente lo smaltimento delle acque dalle strade pubbliche. Quello che poi comunemente viene detto tombino è in realtà il chiusino, ovvero il tappo in ghisa cemento. Quello quadrato, no? Quadrato o rettangolare. Anche tondo? C'è anche tondo in alcuni comuni, sì. La sparizione della Leotta lascia un vuoto incolmabile nel mondo del bordocampo. Infatti questa mattina i raccattapalle di tutta Italia si sono radunati proprio a Leotta in punto. Perché non riescono più a raccattare. Ci cascano le palle. Ma chi è Diletta Leotta? Diletta Leotta all'anagrafe Bruno Cazzaniga. Per un piccolo errore di battitura nasce a Catania il 16 agosto 1991. Lo stesso giorno di mio nipote Lorenzo. Conduttrice tv, radio, influencer, marca da bollo, peperoncino, biscotti, mais, lattuga, cereali, yogurt, le cartine piccole. Ricordatele però, eh? La piccola Diletta coltiva da subito lobby della conduzione tv conducendo l'elettricità dalla presa di correnti al televisore della camera da letto. Ma sentiamo l'appello disperato della madre. Ambasciatore Filippo, Bernocchi Silvia, Gaspari Noemi, Confortini Luca, Farfugli Micaela. A tre ore dalla sua sparizione questo è l'aspetto che potrebbe avere Diletta. E mentre gli inquirenti barcollano nel buio le indagini sono state affidate ai professionisti di Celebrity Hunted. E ora parliamo del parallelepipedo Bibbidi. Grazie a tutti.